Ognuno è a guardia di se stesso, a guardia del proprio confine, della propria umanità che è quello che nonostante le vicende, gli accadimenti insomma a cui la vita, l'esistenza ci sottopone è quello che poi dobbiamo cercare davvero di proteggere quindi ognuno di noi è un po' assordato l'interno di se stesso dunque anche una poesia che vuole essere un augurio e l'ultima parola di una raccolta in cui sicuramente il problema fondamentale è il dolore il dolore della separazione, l'ultima raccolta, mi piaceva chiudere così, della poesia l'ultima parola, scusate, della poesia e dunque della raccolta è felice e dunque vuole essere anche un augurio Limitario, assegno a te il compito di guardare i confini i miei sono violati in armi, come si addice a un guerriero non cedere al sonno, neanche quando sei felice